Una cosetta, una cosa così per le famiglie Ma quale famiglia? È stata una serata bellissima Di alto livello artistico, concreto Delle voci splendide, dei pianisti meravigliosi Delle persone adorabili Anche se tu sei un poco tosto, un poco, eh? No, eh? Tolga poco, aggiungo E lui è un tesoro, lui è un amore E ringrazio lo stradone naturalmente Per avermi accolto ancora una volta Su questo palcoscenico E mi auguro che questo premio Non rimanga una cosa isolata Che sia soltanto un inizio per andare avanti E per creare un'attenzione ai media Alle persone che dovrebbero sapere Che cosa si fa in questi posti Con tanta fatica Ma proponendo tanti talenti veri Io sono felice di far parte Di questo concetto di voci E di attività Mi auguro veramente Che questo continui perché lo merita Perché lo merita Sono molto fiera Molto onorata Di aver partecipato a questa serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.